Un'azienda familiare. Benvenuta, signorina, alla ditta Bandini S.p.A. Sono davvero lieto di riceverla. Il piacere è mio, dottore. Abbiamo letto il suo curriculum vitae con molta attenzione e ci è sembrato del tutto corrispondente alla nostra ricerca. Mi fa molto piacere. Anche il profilo del posto che offrite lo trovo molto interessante. Lei non sta qui a Varese da molto, vero? Beh, saranno tre anni che ci abito. Prima stavo a Mantova. Sì, è vero. Mi scusi. Dicendoglielo, mi sono reso conto che le dicevo una sciocchezza. È scritto nel suo curriculum. Sì, lavoravo in un gruppo molto importante. Ma le imprese troppo grandi non fanno per me. Allora la nostra farà proprio al caso suo. Noi siamo una classica azienda familiare di vecchia data. Mio padre ha voluto affidarmela quando è andato in pensione. Quando avrà visto come si lavora qui, si innamorerà di noi. E scusi, che stipendio proponete per il mio posto di ragioniera? Beh, all'assunzione proponiamo stipendi medi, non altissimi, che però potranno evolvere con la carriera. E come orari? L'ufficio apre alle 8 e chiude alle 18 con una pausa pranzo in mezzo. Qui si timbra il cartellino. Quindi l'importante è fare le sue 40 ore settimanali e il lavoro ben fatto. Teniamo ad avere orari flessibili. Un pezzo di pomeriggio libero fa sempre comodo. Le ferie, invece, da noi sono in agosto. L'annuncio sul giornale non specificava se era un contratto a tempo determinato o indeterminato. Lei capirà, dottore, che il posto fisso fa gola a tutti. All'inizio, naturalmente, sarà determinato. Ma quando avrà fatto il periodo di prova, se siamo soddisfatti di lei, passerà a tempo indeterminato. Grazie a tutti.